Questa azienda è un'azienda importantissima dal punto di vista strategico per la tutela delle aziende del territorio, ma soprattutto per la tutela del nostro territorio. È stata l'emergenza Covid ad aggravare la già precaria situazione dei 15 dipendenti della depuracque di Chietiscalo. La società infatti entrò in crisi a seguito di un'inchiesta giudiziaria del 2015 che ne indagò i vertici e del successivo scandalo dei refluieni provenienti dalla Basilicata nel 2016. Dall'onda mediatica susseguente scaturita una stretta sulle regole che dice la FIOM ne ha limitato fortemente la capacità operativa lasciando le maestranze praticamente inattive. Da qui la forte preoccupazione per la possibile ennesima emorragia di posti di lavoro in Val di Sangro. Se l'interessamento del consorzio di bonifica aveva fatto ben sperare per una soluzione mista pubblico-privato, il bando, il seguente ricorso al TAR del secondo classificato, ha bloccato la procedura riaprendo il baratro dell'incertezza per i lavoratori. Pochi giorni fa è uscita la sentenza del TAR che ha riconosciuto valide le questioni della seconda uncidicataria, quindi la gara è stata annullata e siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Se non fosse atto che però noi non abbiamo più la possibilità di tergiversare, non ci sono più ammortizzatori sociali a disposizione. Ora il sindacato dei metalmeccanici richiama l'attenzione sulla vertenza anche in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo teatino. Questa non è una vertenza come tutte le altre, non è una vertenza dove troviamo il sindacato che si trova a discutere sul tavolo con l'imprenditore. Qui parliamo di una società pubblica che sta creando una società partecipata col pubblico e il privato. L'apporto che può dare la politica in questo genere di vertenza può essere fondamentale e risolutivo.